Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, allora primo video dopo la festività del Natale in cui vi faccio vedere tutti i regali e i miei autoregali non mi perdo molto in chiacchiere perché ho tanta roba da farvi vedere quindi non vorrei che il video venisse troppo troppo lungo però ho una piccola parentesi giusto per augurarvi nuovamente buon Natale anche se è passato da qualche giorno spero che lo abbiate trascorso in modo sereno con le persone che più amate che vi fanno stare bene, lo spero tanto anche noi siamo stati molto molto bene in compagnia di persone a cui vogliamo molto bene malgrado, insomma, io abbia avuto qualche defiance il 23 e il 24 perché ho avuto la febbre però tutto sommato, insomma, queste festività me le sono godute comunque e quindi partiamo subito con i regali peschiamo un po' così allora, questo regalo, in questo pacchetto bellissimo mi è stato fatto da una mia amica speciale lei si chiama Alexandra che saluto tantissimo, che voglio tanto bene ciao Alex tesoro e lei mi ha mandato questo adesso vi faccio vedere è bellissimo con un bigliettino ovviamente anche con una pallina di Natale che lei sempre mi manda questa volta è a forma di alberello che però io ho già messo sul mio albero di Natale e vedendo un mio video ha intuito, insomma, anche perché io l'ho detto che ero interessata a questo prodotto e quindi me lo ha voluto regalare di Naturs, della nuova linea Fiore di Mandorlo mi ha regalato questo Brightening Oil Face Body and Eye ed è questo adesso ve lo faccio vedere perché è stupendo perché è tutto sbrilluccicoso guardate che meraviglia è un olio secco che si assorbe immediatamente ha tutte queste micro pagliuzze e poi ha una profumazione di mandorla questa linea di Naturs è spettacolare quindi grazie Alex lo sai che mi hai fatto veramente un regalo super super gradito poi andrei ad un altro regalo di un'altra amica e in questo caso è una persona che voi conoscete benissimo perché è Patrizia del canale Mandorla e Cioccolata tesoro grazie mille per questo regalo sempre molto carina Patrizia e mi ha regalato ho fatto un regalo bellissimo mi ha regalato questo kit insomma per il massaggio del viso ed è fantastico forse voi già lo conoscete vi faccio vedere quindi si chiama Amirs credo che si pronunce Your Message Expert e voilà è bellissimo allora all'interno c'è adesso vi faccio vedere prima che cosa c'è guardate sono questi AGG insomma accessori per il massaggio del viso quindi zona del contorno occhi per i contorni ed è fantastico stupendo sono stata molto molto contenta di ricevere questo questo regalo all'interno di questa scatola c'è anche una pezzolina per pulirlo ma anche questo sacchetto per riporlo dentro magari quando quando si va in viaggio per essere un po' più comodi rispetto alla scatola il tutto mi è arrivato all'interno di questo sacchetto bellissimo quindi grazie alla mia dolcissima amica Patrizia un bacione grazie tesoro ho gradito tantissimo questo regalo dopodiché andiamo avanti e sì vi mostro allora questo stupendo set di Bottega Verde che mi è stato regalato da una coppia di amici Silvana e Giuseppe e la loro meravigliosa bambina Victoria mi hanno regalato questo set alle mandorle dolci di Bottega Verde e dentro allora aspettate vi faccio vedere che cosa comprende la profumazione oddio mio buonissima allora abbiamo una crema mani ottime le creme mani di Bottega Verde poi questo bagno doccia che ho annusato e sono rimasta scioccata perché la profumazione è buonissima proprio di latte di mandorla e poi una meravigliosa crema corpo latte per il corpo con questa profumazione deliziosa super super goduriosa conoscevo già la linea mandorle dolci di Bottega Verde e quindi grazie grazie tantissimo perché questo regalo super super gradito poi allora aspettate che vabbè voi siete abituati a questi miei movimenti perché io sono fatta così penso di organizzarmi per tempo e invece no quando arrivo qua per registrare vedo non c'ho tutto sotto sopra che devo ancora organizzarmi allora sì ok la mia amica Rita insieme a Gianni guardate un po' che cosa mi ha regalato questa confezione stupenda di Collistar che ha al suo interno un meraviglioso beauty ma proprio bellissimo che adesso vi faccio vedere perché stavo facendo un danno assurdo vabbè ho perso il tappo poco importa allora questa è la pochette insomma il beauty ditemi che non è stupendo è super super elegante e di The Bridge è meraviglioso questo questo beauty e all'interno del beauty ho trovato questa crema no Bath & Shower Cream è un bagno schiuma un bagno doccia e doccia della felicità con oli essenziali ed estratti mediterranei e poi anche il profumo il tappo è arrivato giù per terra va bene il profumo della felicità con oli essenziali ed estratti mediterranei buonissimo lei conosce i miei gusti sa che io sono una patita di profumi prodotti per il corpo quindi diciamo quando mi fa un regalo non sbaglia mai e questo è stupendo quindi grazie Rita ma non solo perché poi mi ha regalato anche questo adesso lo faccio vedere perché è stupendo è un portafortuna è questo bracciale con vedete questo ciondolo questo campanellino portafortuna ed è bellissimo secondo me stupendo quindi molto molto contenta poi la famiglia di Rita e Gianni mi hanno mi ha regalato queste no vabbè ma non sono bellissime io le adoro follemente io sono innamorata di queste cose è stupenda questa pantofola stivaletto babuccia non so come chiamarla così rossa tutta morbida 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 e sono veramente bellissime adoro mi hanno fatto dei regali veramente stupendi e questi mettiamo qui poi passerei scusate un attimo faccio tutti i miei movimenti ma passerei ai regali scusate li ho messi tutti dentro con sta busta allora passerei ai regali dei miei cognati dalla parte di Manu e poi dei regali di mia cognata mio fratello e i miei nipotini allora mia cognata con il compagno mi ha mandato questo che è un portafogli di disegual molto molto carino molto colorato guardate poi tra l'altro anche molto capiente perché è davvero grandissimo questo portafogli allora qui troviamo tutto il reparto per i documenti e poi guardate qui è enorme e qui abbiamo tutto lo spazio per le banconote e qui c'è ancora un altro scomparto bello bello grande vedete sempre per banconote e portamonete molto molto carino molto fantasioso mi piacciono tutti questi colori davvero molto bello poi passerei ai regali di mio fratello e mia cognata che in realtà io nella foga ho aperto tutti ma c'erano anche compresi regali di compleanno anche se mia cognata mi ha detto guarda che io ti sto mandando un'altra cosa ancora per il compleanno perché loro sono così loro mi mi viziano tanto allora qui abbiamo una scatola di patrizia pepe e qui dentro ho trovato questo altro portafogli fighissimo ma proprio bello 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 ed è bellissimo super particolare guardate tipo in questa lavorazione tipo tutta pitonata con tutti questi colori allora questo ha uno scomparto qui è stupendo dentro è un color verde oliva bellissimo con qui la possibilità di mettere delle tessere è un po' più ridotto come portafogli un po' più classico rispetto a quell'altro e poi vedete tutti questi scomparti per documenti le banconote ed è veramente bellissimo con la possibilità appunto di utilizzare questa parte qui anche per mettere delle monete ed è stupendo è bellissimo però io insomma adoro i gusti di mia cognata anche lei insomma mi conosce benissimo e non sbaglia mai quando quando mi fa dei regali sceglie dei regali per me poi cos'altro ho trovato in questo pacchetto meraviglioso ho trovato allora vi faccio vedere di victoria secret allora ho trovato questa body mist si chiama cashmere cashmere snow sono le nuove body mist credo che siano delle limited edition di victoria secret adoro 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 vanilla cream raspberry blush holiday dreams poi un'altra body mist questa si chiama juniper glow e qui è white woods sugar coconut holiday nights guardate quanto sono belle queste boccette sono stupende e poi come se non bastasse una fragrance lotion lotion perfume come una lozione per il corpo profumata della stessa fragranza dell'acqua corpo la cashmere snow si detto giusto guardate che meraviglia un mega boccione da 236 ml ma non abbiamo finito non abbiamo finito perché poi aiuto aspettate vediamo se riesco a recuperarlo ok ho trovato anche questo rossetto di rimmel london in questo rosso pazzesco il numero 500 io adoro questi rossetti ed è un rosso mega wow proprio rosso festa guardate stupendo bellissimo adesso vado a prendere un'altra cosa che ho lasciato nell'armadio e torno subito sempre al regalo di mia cognata Giulia di mio fratello e dei miei cucciolini di Luca e Gabriele eccomi qua allora vi faccio vedere l'altro regalino che mi ha fatto mia cognata è questa t-shirt bellissima con scritto Vogue che rappresenta appunto questa immagine questa principessa con questo tool fucsia ditemi non è stupenda è bellissima è troppo troppo bella e quindi appena l'ho vista sono impazzita perché il soggetto mi piace veramente veramente tantissimo mi si è girata la poltrona questo è un video oggi tutto movimentato quindi grazie grazie questi regali sono semplicemente bellissimi poi io andrei con i regali di mio marito e ve li faccio vedere subito allora primo regalo lei che è arrivata qualche giorno prima di Natale e l'ho aperto perché insomma stavo male ho detto basta lo apro è un regalo che ho scelto io che però insomma mi ha regalato lui ed è la Nabla la Dreamy 2 ero indecisa se prenderla o meno poi insomma lui mi ha detto prendila te la regalo io e così ho preso la Dreamy 2 che poi è la palette con cui ho realizzato il make up che ho oggi e ha un packaging veramente veramente straordinario bellissimo davvero davvero bello io sinceramente reduce dall'apprezzamento nei confronti della Nabla della Nabla della Dreamy la prima che è uscita ho voluto prendere anche la 2 allora qui abbiamo uno specchietto e questa è la palette è una palette incentrata principalmente su queste cialde tutte glitterate io oggi ho usato questo oro e poi ho utilizzato un po' di questo e un po' di questo per la realizzazione del make up tutte le altre cialde insomma potete vedere sono tutte cialde molto sbrilluccicose infatti vedete questo trucco è molto luminoso non so dirvi ancora tantissimo di questa palette perché l'ho utilizzata pochissimo l'ho utilizzata oggi per la prima volta devo dire che non mi dispiace nel senso che io ho realizzato il make up stamattina verso le 11 adesso sono le 19 e 12 per cui insomma del tempo è passato e devo dire che insomma il trucco è perfetto assolutamente perfetto per cui per il momento le prime impressioni sono molto molto positive poi magari più avanti farò un get ready with me magari vi swatcho anche qualche qualche cialda questo diciamo è un video in cui vi mostro semplicemente i regali altrimenti veramente facciamo notte poi cos'altro mi ha regalato mio marito la lista non comprendeva soltanto dei profumi però diciamo che ha dato ha prestato attenzione a quella dei profumi e alla fine mi ha ha scelto mi ha regalato lui lo Chanel numero 5 eau de parfum sono veramente rimasta molto molto contenta di questa scelta perché è un profumo a cui sono molto legata davvero molto molto legata questo è un formato da 50 ml ed è stupendo mancava proprio nella mia collezione e sono davvero molto contenta perché questo è un profumo a cui sono molto molto legata è un profumo che io ho utilizzato veramente tantissimo e non mi ricordo se lo comprei io con i risparmi o feci di tutto per farmelo regalare da mia nonna però ero non ricordo forse appena diciottenne e già avevo queste idee così riguardo i profumi mi ero indirizzata su qualcosa di molto molto importante e quindi sono molto legata a questo profumo dei ricordi di un periodo bellissimo della mia vita in cui volevo diventare donna volevo diventare adulta e questo profumo mi dava questa parvenza di donna adulta e quindi ci sono particolarmente legata anche per dei ricordi legati a mia nonna quindi sono rimasta davvero molto molto contenta poi mi ha regalato aspettate che lo cerco sa la mia passione per la lettura per i libri e mi ha regalato una gift card di giunti al punto per poter acquistare almeno tre libri e quindi sono veramente molto molto contenta di questo regalo è stato veramente bravissimo mio marito come sempre poi non è ancora finita perché in quella lista appunto non c'erano soltanto i profumi ma lui molto carinamente è andato da Sephora e mi ha preso questa palette che io avevo swatchato qualche giorno prima e insomma ero rimasta molto colpita dal packaging ma perché mi piacciono comunque i prodotti di Anastasia Beverly Hills soprattutto le palette ne ho diverse insomma sono rimasta molto entusiasta mi è piaciuta l'ho swatchata e lui è andato a prendermela tra l'altro appunto l'avevo inserita all'interno di questa wish list di questa letterina che avevo spedito a Emanuele Natale non a Babbo Natale allora questa è la palette la palette Carly Bible insomma ed è veramente molto particolare proprio un packaging da collezione però la palette in sé per sé è una palette davvero molto molto bella anche qui troviamo uno specchietto e questa è la palette in questione con dei colori secondo me bellissimi perfetti secondo me proprio per i miei gusti non ci sono colori particolarmente estrosi che io non potrei utilizzare c'è questo viola che non vedo l'ora di usare non l'ho ancora neanche swatchata ma anche di questa magari vi faccio un get ready with me e vi faccio vedere anche qualche qualche suoccino quindi bellissimo per cui grazie 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 a mio marito che è stato veramente carinissimo mi ha comprato un sacco di cose bellissime ah dimenticavo non ce l'ho qui ma ve l'avevo fatta vedere questa cosa in una instagram stories mi ha preso anche il ferro per i capelli da Lidl che era in offerta c'era quella settimana in cui c'erano tutti i prodotti diciamo gli accessori proprio per la piega dei capelli lo styling quindi mi sono fatta regalare il ferro dopodichè io credo di avervi fatto vedere tutto posso passare ai miei autoregali allora eccoci qua mi sono letteralmente innamorata di una felpa che ho preso da pool and beer e questa me la sono ovviamente autoregalata perché cioè perché l'ho presa perché secondo me è pazzesca molto delicata ma pazzesca cioè guardate è bellissima è tutta tempestata di super paillette è una cosa favolosa e l'ho presa da mettere col mio gonnellone lungo plissettato in similpelle magari con gli anfibi insomma per sdrammatizzare un po' ed è stupenda questa felpa presa da pool and beer e questa l'ho pagata 39 euro e 95 mi pare dovrei avere anche il cartellino no 35 e 99 ed è bellissima poi da tacco fashion ho trovato questa chicca pazzesca perché è un maione stupendo pagato 17 euro e 99 allora questo maioncino così ma la cosa bella è il fondo perché ha questi polsini e questo fondo in fucsia che è stratosferico appena l'ho visto ho detto no ok entro e me lo prendo perché è bellissimo tacco fashion non mi delude mai c'ha sempre delle cose strepitose poi sono stata da tiger da tiger ho preso così c'era un casino allucinante e sono riuscita a prendere soltanto questo questo borsellino carinissimo che io porto in borsa magari ci metto i rossetti qualche penna non so i pennelli dipende è stupendo di quelli insomma con le paillettes che si possono vedete girare fare tutti i giochi di colore bellissimo ho pagato 3 euro non mi ricordo o giù di lì poi sono stata da sephora e da sephora io mi sono innamorata letteralmente di questa a parte il fatto che conosco adesso i rossetti di pat maigrette perché quello che indosso è il suo sono di una qualità pazzesca quindi quando ho visto questa confezione così tutta piena di paillettes io non ho resistito e me la sono presa e all'interno ci sono 3 mini rossettini questa diciamo che ha un costo importante però se considerate che il rossetto nel formato normale costa quasi 40 euro 39,90 49,90 per 3 mini tagli insomma è tanto ma allo stesso tempo non è tanto ecco allora io ho preso perché c'è una versione sui toni un po' più rosati berry ho preso questa qui che invece comprende dei nude allora è una limited edition non mi ricordo i colori quali sono li avevo letti però adesso li devo andare a pescare e contiene sì allora si chiamano OMI 1995 e Flash 3 e niente bellissima le paillettes le conserverò aprirò la confezione ma le paillettes ovviamente le conserverò perché è veramente veramente bellissimo mi si sta scaricando la batteria del telefono incrociamo le dita adesso continuerei con i miei autoregali faccio una carrellata molto molto veloce allora mi sono regalata era in offerta a 19,90 euro da Tigotà non sto qui a raccontarvi le note olfattive perché sono profumi certamente di cui vi parlerò mi sono presa il Florence di Roberto Cavalli questo profumo è pazzesco un profumo che identifica tantissimo la personalità all'estro di Roberto Cavalli sia nella boccetta dedicata alla città di Firenze perché come vedete vi è inciso il giglio esce un profumo d'acqua pazzesco e boccetta bellissima proprio da collezione profumo veramente sorprendente con quel tocco Cavalli che lo contraddistingue poi anche questo in super offerta da Tigotà pagato 16 euro forse un profumo che ho usato tanti anni fa ma buonissimo soprattutto per la primavera un profumo fiorito molto romantico e molto molto persistente Parle Moi d'Amour di John Galliano nella versione Eau de Toilette che io preferisco di gran lunga l'Eau de Parfum anche per la durata guardate che carino è come se fosse una busta una lettera vedete con la francatura ed è veramente fantastico e poi la boccetta è veramente un messaggio d'amore vedete è una busta così affrancata bellissima la boccetta è buonissimo il profumo io in pratica mi sono regalata una valanga di profumi poi mi sono regalata questo Avon Soft Mask Delise Fleur de Chocolat di Avon una nuova uscita è un profumo con note appunto di cioccolato devo dire che non mi ha delusa mi piace moltissimo e ve ne parlerò senz'altro la classica boccetta dell'Avon Soft Mask in questa versione un po' più scura con dei toni marroncini appunto a ricordare le note di cioccolato così come la confezione vedete che è così marrone poi mi sono regalata questa confezione che ho trovato sempre da Tigotà a pochissimi euro credo 15 euro il Cabotin Rose di Cabotin de Grasse e contiene all'interno uno de toilette 100 ml e una body lotion che vi faccio vedere subito proprio in maxi taglia questa è la body lotion sono 200 ml di prodotto non ho ancora utilizzato nulla tranne il profumo che trovo strepitoso una rosa delicatissima fresca tra l'altro bella bella forte insomma con una buona persistenza e con questa boccetta bellissima proprio romanticismo puro Cabotin Rose diciamo che io ho preso il tutto ero appena rientrata da Parigi e quando ho visto questa confezione così romantica con la Tour Eiffel non ho resistito e l'ho presa poi mi sono regalata un classico veramente stupendo un profumo elegantissimo davvero molto sofisticato ho preso il famosissimo Arpeggio di Lanvin nella versione Eau de Parfum ho preso un 30ml e questa boccetta è un capolavoro assoluto di charm ed eleganza e raffinatezza guardate che meraviglia in una collezione di profumi questa è veramente una cosa una chicca strepitosa profumo veramente eccezionale non per tutti una profumazione molto potente un profumo con molta personalità questo secondo me è un profumo che non va acquistato a scatola chiusa poi mi sono regalata anche qui un super classico ma io questo profumo lo volevo da tempo dicevo sempre poi lo compro poi lo compro ultimamente avevo la fissa ho detto no me lo devo regalare mi sono regalata Olimpea Eau de Parfum di Paco Rabanne anche di questo ho preso una 30ml che tra l'altro era anche in offerta ma non mi ricordo quanto l'ho pagato l'ho preso nelle profumerie Beauty Star e boccetta vabbè magica bellissima molto molto elegante a me piace molto è una profumazione buonissima una vaniglia salata davvero molto molto interessante e felicissima di averlo acquistato adoro questo profumo ripeto lo volevo da tempo finché ho detto buon compriamolo e poi su consiglio della mia amica Sonia che saluto sempre con super affetto la mia bellissima Sonia un bacione tesoro ci scambiamo i consigli profumosi abbiamo detto basta scambiarci i consigli profumosi perché basta perché ogni volta lei dà dei consigli a me io vado a comprare io dò dei consigli a lei lei va a comprare l'altra volta mi ha detto basta non se ne può più ovviamente stiamo scherzando e mi ha consigliato questo profumo che ho preso su Amazon è un profumo arabo la linea è al haramane credo che si legga così è un 100 ml si chiama rawa eau de parfum ed è questo una bomba pazzesca anche qui una boccetta veramente guardate super lussuosa sembra una boccetta di liquore di cognac pazzesca bellissima secondo me profumo davvero molto molto interessante molto gourmand con pralina però legata molto bene con gli altri con le altre note olfattive per cui non mi ricorda nulla di già sentito davvero molto interessante tra l'altro anche un po' licuorosa proprio come come fragranza ecco bellissimo guardate che bello anche questo un ottimo profumo un ottimo rapporto qualità prezzo perché parliamo di un 100 ml di un prodotto arabo molto molto interessante concentrato molto persistente ad un prezzo irrisorio perché l'ho pagato solo 27 euro su Amazon senza spese di spedizione quindi fantastico e sì ho finito questi sono stati tutti i miei regali ed auto regali di Natale manca quello di mio papà e di mia mamma perché loro non sono stati qui per Natale verranno per il mio compleanno verranno intorno il 10 di gennaio e non lo so che cosa mi regaleranno quindi poi magari quando vi farò vedere il video sui miei regali di compleanno vi mostrerò anche quello che loro mi hanno regalato per Natale quindi il video è durato tantissimo sto vedendo 31 minuti non so se dovrò fare dei tagli insomma vedrò però qualcosa ve la dovevo pur dire e mi sono trattenuta altrimenti sarebbe durato 60 minuti dunque io vi rinnovo ancora i miei auguri per di buon Natale visto che è passato da poco vi mando come sempre tanti tanti bacini se vi faccio vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie.